Io ad Arco ho tre riferimenti. La Gina, l'Ada e la Pia. Chi sono la Gina, l'Ada e la Pia? Sono delle donne del popolo, di quel famoso popolo che, abbiamo detto più volte, serve ai politici per riempirsi la bocca. Allora, contro la Pia, il dottor, ma mi dica una roba, cos'è la classe action? Una roba del genere. La dico, non so, Pia. Come? Dice il dottor. Non lo sa. E mi dice, che dei termini che non riesco a capire. Dico, guardi, mi informo perché onestamente non lo so. Allora ho incontrato il mio amico professor Parisi, dico, dicendo, Sandro, cosa vuol dire class action? Class action vuol dire quando c'è un'azione di classe, un gruppo di persone che si riuniscono per fare causa contro qualcuno, una manifestazione contro una persona. Ma dicono, se potria dire che è una manifestazione, un'organizzazione, un insieme di persone? No, bisogna dire class action perché fa fino. Allora mi è venuto in mente quando in chiesa c'era il latino, che si recitavano tutte le preghiere in latino e nessuno capiva niente. Poi mi è venuto in mente anche il Manzoni, quando Renzo è andato dall'avvocato a Zecca Garbugli e che ogni tanto gli sbatteva lì una frase latina. Oppure quando parlo con qualche mio amico che fa qualche citazione di qualche libro che io magari non ho letto e mi vorrebbe far fare la figura del solito poco informato, quelli che io oso chiamare radical chic. Allora questa massa di parole inglesi secondo il mio parere non funziona perché o i giornalisti scrivono per loro e per un'elite di persone, ma se vogliono scrivere anche per coloro i quali non sono così istruiti, devono adoperare altri termini. Allora un giorno Piero Stellino che è l'ex direttore del Corriere della Sera ha scritto un articolo con una serie di termini inglesi. Siccome sotto l'articolo c'era l'email, ho finito di fare l'articolo, sono andato e gli ho scritto un'email e ho detto egregio direttore, il sottoscritto è laureato, ho fatto l'iceo classico latino e greco, ho incominciato a studiare l'inglese perché per mia soddisfazione non volevo essere da meno al computer perché tutte le frasi del computer sono in inglese e a 70 anni ho scritto l'inglese. Però non mi risulta che né la Gina né la Ada le cose le abbia studiato inglese e un'infinità di altre persone al di sopra di una certa età, forse i giovani è diverso, non sanno questi termini. Io la prego, se lei quando scrive un articolo non pensi di scrivere l'articolo solamente per una certa classe di intellettuali, ma pensi che c'è anche la Gina, l'Ada e la Pia. Ho ricevuto la risposta e mi ha detto cercherò di evitare quel frasario. Questo mi ha fatto anche piacere, però se voi prendete i giornali c'è sempre qualche tema, default, default, cosa vuol dire default? Crisi, mi dice l'amico poi, me lo sono scritto, crisi bancarotta. Una volta quando una donna faceva la prostituta la chiamavano in un certo nome, adesso no, è una escort. E siccome che è una macchina che si chiama escort, non si pussa, la macchina escort è di quella famiglia là, insomma faccio un po' di confusione. Allora, adoperiamo i termini che sono esatti, ma siccome si vuole coprire anche coloro i quali fanno la prostituzione, una che fa prostituzione escort è diversa da una che fa prostituzione in un altro verso, ma tutti e due fanno la prostituzione. Questione di prezzo probabilmente. Ma poi c'è un altro termine, il backstage. Cosa vuol dire? C'ho di fronte il professor Parisi, mi dica cosa vuol dire backstage? Quello che avviene? dietro le quinte. Quello che avviene dietro le quinte. Ma, e mi domanda, quell'altro, aspetta, aspetta, all inclusive, tutto incluso, dal latino, no, dal inglese, all, all che vuol dire tutto, ma c'è un altro. Che cos'è lo stalking, stalking si dice, di fronte al professore che mi vada, stalking, che è la violenza sulle persone. Non si può dire violenza, no? È stata fatta violenza una ragazza, è stata fatta violenza, no? Stalking. È il mobbing. Mobbing anche, quando si muove, mobbing, cosa vuol dire mobbing? Ma dico, è quell'altro, aspetta, aspetta, il voucher, il voucher, che vuol dire i buoni per pagare. Se vado al bar e con abbonamento qui con un bar per mangiare, dico, guardi che le do un voucher. Io non lo so. Può darsi che sia, ce n'è un altro, aspettate, le wellness. Wellness è quando uno va in un istituto di bellezza, perché se lo chiamate istituto di bellezza, voi non uscite così belle, ma se andate in un istituto che si chiama wellness, allora, insomma, è un'altra roba. Non so se li si può pagare con i voucher, o se ci sono le escort, o se magari bisogna fare il default, o che magari lei è un backstake. Allora, io pregherei, pregherei, le persone che mi ascoltano, di protestare, perché questa è una maniera per darci degli ignoranti. Perché? O conosci, se no, non sei all'altezza, non sei all'altezza, perché non conosci il backstake. Allora non sono all'altezza. Ascoltatori, io non sono all'altezza. Alla prossima puntata.